Noi siamo eccezionali! Noi non avremo mai più paura! Solo attraverso il dolore! Voi raggiungere la grandezza! Impuro a chi non è stato toccato, né bruciato, né massacrato! Quelli che non hanno mai sofferto! Non hanno nessun valore! E non hanno un posto in questo mondo! Loro sono addormentati! Il tuo fucile non mi può ferire! Non lo vedi che non sono umano? Kevin è un uomo! Io sono molto di più! Accaci in questo modo! Tornata! Qu'è tutta l'ora? Aerı ven Early Guazzi 위ди Sì Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.